Gentili telespettatori, buona giornata. Nessuno vuol fare più il maestro o la maestra, il professore, la professoressa. Ma come mai? Il posto pubblico, il sognato posto pubblico, il posto fisso, come mai? Cercasi, cercansi, affittansi, cercansi, oltre 94.000 docenti, due corpi d'armata di docenti. E' un corpo d'armata, sono 50.000, qui sono due corpi d'armata. Le assunzioni per regione, il 50% rischia di rimanere vuoto. Non ci sono insegnanti in Italia. Il posto fisso non interessa più. Quel posto che poi non hai più problemi, posso andare al mare, posso programmare il mutuo della casa perché ho il posto fisso. Da adesso fino alla pensione io farò il maestro, la maestra, il professore, la professoressa. E quindi, perché? Siamo passati dagli anni 60-70, e anche 80, dove il posto fisso nella pubblica amministrazione... No, non vi ricordate, no? Gli anni 80, gli anni della crescita economica, degli iuppis, giovani di successo, dove... Come? Vuoi andare a fare il lavoro statale? Dove ti pagano fisso per sempre, ma come? Non vuoi comprarti la Maserati, non vuoi comprarti la barca... Cioè, erano gli anni del boom economico, ma dove tutti cambiavano la macchina, ti si compravano la giacca... Insomma, gli anni della Milano da bere, dove il posto statale, no, il posto statale no, concorso in polizia nei carabinieri, ma va, ma dai, ma cosa dici, ma per chi mi hai preso? Siamo passati da quegli anni, poi agli anni 90-2000, quando ci si è accorti che lavorare nel privato è una lotteria, ti spremono e ti buttano via. Fa anche rima, no? Lavorare nel privato è una lotteria, ti spremono e ti buttano via. Potrei farla in rap. Ecco, io l'ho visto sulla mia pelle, no? L'ho visto sulla mia pelle. Io stesso volevo fare un concorso in polizia negli anni... nei primi anni 90. No, io dovevo andare a fare il manager. Negli anni, poi, ho rimpianto, ho detto, caspiterina, se avessi fatto il concorso in polizia, magari avrei fatto anche poi l'università, avrei avuto un grado magari come commissario, commissario capo, avrei avuto il mio posto sicuro, avrei organizzato la mia vita senza incertezze. Io ho rimpianto di non aver fatto il concorso in polizia come mi avevano consigliato, no? Il concorso in polizia volevo fare. O il concorso come tenente nell'esercito, no? Con la laurea avrei potuto fare tenente, capitano, quei gradi da ufficiale. No, io dovevo fare il manager, no? Perché avevo gli amici con i soldi, anch'io dovevo comprarmi la macchina sportiva, dovevo fare quello, lo spara pose, no? Quello che... Eh, è così, no? Cerchiamoci il lavoro per fare la carriera da manager, dimostriamo che siamo capaci a salire nella scala gerarchica lavorativa, vabbè. Sono salito, ma una salita un po' così, nel senso non sono mai diventato un grande manager da guadagnare tanti soldi, sono diventato quadro intermedio, no? Dirigente intermedio, con stipendi comunque buoni, la macchina aziendale, il computer aziendale, il cellulare aziendale, però vi devo dire che quello stipendio più alto che guadagnavo e i benefit non ne valevano la candela. Ho passato dei brutti anni, con la vita privata ridotta al lumicino, ridotta al lumicino, senza una stabilità familiare, perché dovevo correre, lavorare dieci ore, dodici ore al giorno, stare fuori tutta la settimana, vai in quella regione, vai in quell'altra a seguire il venditore, vai in quell'altra ancora se... Parti il lunedì e torna il giovedì, parti il martedì e torna il venerdì, di tutte le settimane. Quindi io affittavo il mio tempo per 24 ore su 24, annullando la mia vita privata. Ho annullato per anni la mia vita privata. Ah sì, però avevo avevo la Mercedes B220 nuova, avevo il computer e il cellulare aziendale, non pagavo benzina e telefonate, mangiavo al ristorante, però ero solo, però ero solo senza nessuno. Eh? Ne è valsa la pena? No. Per fortuna sono riuscito a cambiare vita. E quante volte ho rimpianto il posto fisso? Perché quel posto fisso nello Stato che non voleva nessuno, poi da metà degli anni 90 in poi, quando le persone hanno visto che l'iniziativa privata ti assumeva per un anno, un anno e mezzo, poi via, poi via, o l'azienda falliva, o l'azienda non ti voleva più, o non portavi risultati, o non ce la facevi più tu a essere sfruttato, allora hanno tutti cominciato a rimpiangere il posto fisso. Tutti correvano a fare i concorsi a fine anni 90, primi anni 2000. Il posto fisso era diventata magari riuscire ad avere un posto in comune. si presentavano in 10.000 per 50 posti. Oggi ci sono i 50 posti e si presentano in 25, la metà. O non si presenta nessuno. Cos'è cambiato? E' cambiato che quell'agognato posto fisso, che sarebbe fantastico, gli stipendi sono talmente bassi che la gente è costretta a cercare di andare a far carriera nelle aziende. Spero di fare un po' di carriera che magari mi danno quei 150 euro in più perché se no come arrivo a fine mese. Quindi non vuole fare più nessuno il docente, docet. Nessuno vuole fare più il cattedratico. Nessuno. Perché? Perché gli stipendi sono inadeguati. Non sono più sufficienti, sono obsoleti, sono fuori ormai da quello che è l'economia italiana. E così, volenti o nolenti, non si presenta più nessuno. Dice, vabbè, ho il posto fisso e poi non posso mangiare. E allora che facciamo? Però c'è il posto fisso. Non me lo toglie più nessuno, però non arrivo a fine mese e poi quando mi daranno la pensione divento ancora più povero. Capite che c'è qualcosa di profondamente che non funziona più in Italia, di profondamente sbagliato. Ormai si è per anni abusato dell'Italia. I politici hanno fatto debito, non hanno fatto alzare gli stipendi, i sindacati non hanno fatto il loro lavoro. Com'è possibile che ci sono dei contratti oggi scaduti dal 2019? Ma dove cacchio sono i sindacati? Ah, però vanno a parlare con Draghi, eh? E gli piace andare a Palazzo Chigi a parlare con Draghi. E vorrei dire, vai a parlare con Draghi, ma il contratto scaduto dal 2019 sveglia? No, è bello andare a parlare con Draghi. È bello andare nei palazzi della politica. Arrivederci a tutti e grazie.